Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, oh bella ciao Parchiiano, portami via, oh bella ciao Che vissal tonti mori Isseio mio coiio Ho ho maggiato e una polina e un fillo Mi riema che poteca? Ma non si muovete in raggiunge la poteca? Ma che c'era il giorno del piano? Non è una cosa che ti c'è? Su se sei di voglia? Non c'è cosa E tu ti c'è di qua qui sul piano? Siamo in un po' la guardia. Fruitschia! Non dovete capire la difuole. Qual è il mio ero direttore del gano? Sì, nel centro del Filippo Poi. Ci sono nel centro del Filippo Poi. Tu non sei lo stesso? Lo stesso. Lo stesso. Lo stesso. Lo stesso. Cosa vuole è lo stesso? No lo stesso. Non mi fai apporto il lavoro. Io ne faccio il lavoro. Io faccio il lavoro. Di tutto il lavoro. Ti chiusi a te ringerci? Ti chiedi per il lavoro? Il lavoro è 5 euro. Quindi non lo so? Perché non so nulla. Il lavoro è molto più. I le informazioni di una casa che si succede. Quindi è il lavoro. ma allora paralisa che non ti mi ragazano a fare il ragazano ? o a ci sono due ragazano non ci è quello che si 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 mi ragazano ho fatto una di un ragazano si arrivi si arrivi ... ... Ma il pesce a te vede! Cosa parlare? Ci siamo attivati. Ci sono tuttiантoli. Ci sono tutti i bambini. Ci sembra di impulsi, il bambino! E così? Cosa farà, non è così? Cos'è ancora? Cosa? Chiusi, c'cosa! Sì, non è venito del bambino! Sei andato, non sono andato! E non è anche qui, per ccollo! Tu tiuccherà! usp Märzio di Qoνina ero? lei giano vai andare i gianco sai allora? o tu ti è successo? no i sotteri sai rai sai rai sai rai come tutti? sai rai c'è la prima cosa accosta è il futuro? l' come di un' ma cosa accosta è il futuro? o la Ma, come conosci la mia moglie? Mi ha fatto un'occasione. Quando? Un'occasione? Un'occasione? Mi ha fatto un'occasione. Mi ha chiesto le informazioni, delle quali dovrei sapere. Come? E' un'occasione! E' un'occasione! E' un'occasione! E' un'occasione! E' un'occasione! In front case va emergent! V 그림ァ! E' un'occasione. E' un'occasione. Mere, c'è! E' una cica2 rich? Y' un'occasione. Sy' un'occasione. F Giadora Hannaz. Este revés mes? E' un'occasione della carta cosli. Era un'occasione delle france. Poi, piacciono! Se vuoi giutere! Non lo farò mai... Poi, piacciono! Poi, piacciono! E'la pò, piacciono! Ma che la facciamo! Ci sono giuria, non mi voglio! Sto faccio ci siamo! Ècii ci spiego! Indio! Hidrogino 2! Mi raccomando! Si, 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 si... Si, non mi fai male! Si, non mi fai mai nulla! Non mi fai mai nulla! Alla cosa cazzo è buù? E buù il paggieras me diòxane E buù l'istopias me diòxane E buù il salgutato che me diòxane Buù ti cantano di masi da grano Treccanora ma la galline! Devo rarci! Ci sono capito da grano! Chi è che non può dire? La mattina Mi sono alzato Oh bella ciao bella ciao Oh bella ciao 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 Stamattina Mi sono alzato E ho trovato l'invaso Oh partigiano Portami via Oh bella ciao Oh bella ciao Oh bella ciao 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 Partigiano Portami via